Vi presento una proprietà invitante da qualsiasi angolo. Riuscite a immaginarvi a vivere qui? Questa proprietà vanta cucina con zona pasti che piacerà sicuramente. Gradevole camere da letto che offrono abbondante spazio a tutti. Fate un passo fuori alla zona dell'intrattenimento, perfetto per un barbecue estivo. Fissate un appuntamento al più presto per vedere questa casa.